A Sciacca non ci sarà un'adesione totale allo sciopero dei benzinai previsto a livello nazionale per le giornate di domani e dopodomani. La TAOIL di Contrada Segnazza ad esempio sarà aperta, così come la stazione di carburanti Curreri di Viale Leonardo Sciascia alla Perriera è proprio il titolare di questa attività a spiegare le ragioni della non adesione totale alla protesta. Noi condividiamo le posizioni dei nostri colleghi di categoria, solo che in ambito locale non manca quell'armonia e quell'intesa che forse se non riusciamo a trovarla entro pomeriggio molto probabilmente c'è qualcuno che aprirà e quindi alla fine saremo tutti aperti. Un problema locale dunque perché l'intero comparto condivide le ragioni per cui a livello nazionale è stata decisa la serrata per due giorni. Non è accettabile, dice Curreri, essere accusati di speculazione in relazione ai costi del carburante, non siamo noi a stabilire il prezzo. Questa speculazione che dice il governo, che attribuisce il governo è assolutamente falsa e non è attribuibile a noi gestori. La maggior parte degli impianti in Italia è di proprietà delle società petrolifere. Queste società petrolifere determinano il prezzo di vendita all'automobilista, rilasciando un margine che è diverso al gestore se l'impianto è in self o l'impianto è servito. Questo prezzo viene ad ogni variazione e almeno una volta alla settimana deve essere comunicata al Ministero dello Sviluppo Economico. Per cui ogni eventuale speculazione fatta dal gestore, ossia ogni eventuale aumento del prezzo indicato dalla compagnia petrolifera fatto dal gestore deve essere comunque comunicato al Ministero dello Sviluppo Economico. Per cui le società petrolifere hanno piena visione del prezzo praticato dai gestori. Per cui se questa speculazione dovesse verificarsi la società petrolifera ne è subito a conoscenza. Per cui questa accusa del governo e questa imposizione del governo, perché lì il problema qual è? che il governo oltre ad umiliarci ritenendoci responsabili della speculazione ci ha obbligato con un decreto legge ad esporre il prezzo medio regionale praticato e di conseguenza se questa esposizione non vengono ottemperati questi obblighi avremo delle sanzioni pesanti e anche arriveremo pure alla chiusura, all'obbligo della chiusura dell'impianto per un certo periodo. Quindi sono delle sanzioni alte, delle imposizioni alte per non aver commesso nessuna, non aver nessuna colpa, nessuna responsabilità. Così i curreri in relazione al ripristino delle accise sui carburanti. È questo che ha fatto lievitare il costo del carburante. A gennaio sono ritornati i consumi della Cina per cui il prezzo del carburante è ritornato a salire e automaticamente il prezzo è quasi a 2 euro.